Ciao a tutti, io sono Letizia Gambi e sono qui con Elisabetta Serio, Laura Klein e Giovanna Famulari. Siamo qui riunite noi quattro perché facciamo parte di una formazione, di un quartetto che ho messo insieme io da qualche anno che si chiama Letizia Gambi in 4D, quindi siamo le 4D e vorremmo la tua attenzione perché c'è da agire, c'è da fare un bel gesto d'amore, un gesto di solidarietà e per donare il tuo 5x1000 ad un'associazione che si chiama Baba Room. Elisabetta la conosce e c'è già stata ospite perché fanno dei concerti live. Elisabetta dici qualcosa. È una bellissima manifestazione organizzata da Carmine Tirri che è un medico squisito che ho avuto l'onore e il piacere di incontrare in un paio di occasioni con il mio trio e lui devo dire che è veramente uno che dà il cuore per queste persone indigenti quindi i concerti che l'ho organizzato fino adesso e speriamo che si possano rifare donano tutto il diciamo il ricavato direttamente alle persone malate terminali, vero Laura? E allora il ricavato va direttamente ai malati e alle persone indigenti che hanno fatto questa problematica. Per donare il vostro 5x1000 durante la dichiarazione dei redditi lo potete fare potrete scrivere il codice fiscale dell'associazione Baba Room e ve lo dico segnatelo 9 2 0 6 1 8 3 0 6 4 9. Fatelo, mi resta bellissimo, lo faremo anche noi. Ricordatevi Baba Room 5x1000. Ricordatevelo. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.